Ehi la, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Mario e Luigi Superstar Saga più scagnozzi di Buster Siamo ancora all'interno dell'Accademia Crepapelle E ho affrontato diversi nemici l'altra volta Cosa che non farò anche oggi, oggi mi limiterò ad affrontare la strega Ghignarda, immagino Dato che sembra essere lei il boss E... dunque, sono in una stanza completamente chiusa mi pare No, c'è un'uscita là Questo non posso raggiungerlo, credo, in nessuna maniera E qui abbiamo delle porte, dei passaggi in cui può entrare solo Mario Ok, andiamoci da fare Eccolo qua, vai E questo apre la porta a fianco Ah, però chiude questa Vabbè, non è un problema I punti si ottengono saltando con A e B e colpendo i blocchi in movimento Se entro 25 secondi si ottengono 30 punti La porta si aprirà Ui Proviamoci Ah, sì, entrambi Pensavo che passasse L'ho notato dopo che non passava Oh, vai Grande Sto andando bene Eh, più o meno Sì, come... ecco, come l'ho detto Ok, l'esperimento è stato un successo Oh, cielo Proprio alpino Alpino l'ho fatto Wow Premi A e B per coprire... Questo è il frutto delle nostre... Ok, niente di importante No, tanto che devo continuare con Mario Fungo 1-Up Quindi ora Vado qua sopra So bene qui che il martello non serve Però ci ho voluto provare Eh, dovevo Ah, scendiamo qui? Sì Ok, barile Ah, certo, per salire lì sopra Andiamo Luigi Ma questo pulsante quindi dovrebbe aprire la luce? Tipo? Ah, gira il quadro, ok Gira il quadro, lo specchio Ah, eccolo qua Bene, bene, bene Ah Possiamo andare allora Luigi Luigi, eh, dai Ah no, devo tornare un attimino qua sopra per capire dove porta la strada E dato che posso arrivarci solo con Mario Pic... Sì, salta però, ecco Mario Piccolo Eh, può essere che non è una cosa troppo difficile Potrebbe anche non esserci niente, essere solo una stanza bonus Ah, vedo dei cubi però nascosti Eh, trovarli ora Ah I tiri fagioli Altri tiri fagioli Eccolo qua Ok, in cerchio E quello è lì sopra Ma i tiri fagioli io non mi ricordo assolutamente a cosa servono Certo, li potrò usare più avanti Questo è sicuro però Niente, cervello Quel cassetto della memoria Per cosa servivano i fagioli Niente, non si vuole aprire O è stato bruciato in un incendio Quando mi sono bruciato qualche neurone Guardando i video Di Un certo tizio Non faccio nomi Se no mi denuncia Ehm Andiamo avanti Perché è meglio Allora Eccoli così Sì, vabbè, salta, salta Mostriciattolo, maledetto Oh, allora Guarda che bel fascio di luce Segui la luce Mario Però solo questa luce Quella che ha un raggio Non quella che è spalancata sull'infinito E quella è una luce che non dovresti seguire ora Sei troppo giovane ancora Vai, altri fagioli Eh sì, infatti E la super nocciola Non male Mi sta dando oggetti particolari Quindi siamo prossimi alla boss fight Beh, è ovvio che c'è una boss fight Ora non so di preciso Se è contro la strega Ghignarda Ma Dato che siamo qui Per riprenderci la voce di Peach Immagino sia così E qua ci vuole barile, vero? Ma noi dobbiamo colpire Il quadro Elettrico, tipo Quindi ci vogliono due barile Sì, capo Dov'ha? Ma passiamo un po' di qua Dai Vai Abitamento E let's go A parte si può risalire A quanto pare Da qui non è un problema Anche caschiamo Eh, sì Infatti Caschiamo sicuro Perché se no Non sarei io Oh, spara Ecco Non andava Ah, forse c'era troppo poco spazio Labirinto Senza troppa Difficoltà Perché alla fine è aperto Cioè Non hai un limite di tempo Non hai nessuno che ti rincorre Quindi Eh E si aprono I posti di blocco Ok Un barile Ah, quindi basta quello? No Ma comunque proseguo di qua Tanto che ci siamo Facciamola tutta Ah È chiusa Eh, niente Ma quel blocco Come posso prenderlo? Non posso prenderlo Devo fare in modo Che si abbassi In qualche maniera Luigi Cioè No, dai Salto così No, però dai Che fregatura Ciao ragazzi Ah Due barili Certo Certo Eh, l'avevo detto Andiamo Le barili Allora Visto che ora L'abbiamo messi E Penso sia giusto Così Cioè 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 deve respingere Il raggio No Eh, infatti Ma no Ma no Ma Luigi Eh, no Eh, no Ah, ok Vabbè Chiaro Ah, dai E ora E ora Qua il passaggio è libero Tant'erà un cadere Mario Un ricostituente Un Sciroppo E E un Jeans Cuore Ah, carino Oh, che cavolo è questo? Il Donkey Kong Vabbè, sì Ho capito però Salta Eh Ma che è successo al salto ora? Così moscio il salto Che è Mario Sto salto? Tutto moscio Che mi si Ma sì Ma per favore Dai Eccoci Luigi Sono arrivato Eh, ma se me lo porti via Allora Eh, vabbè Sì Che cos'è? Bellissima Sto parte Attenzione Si è aperto tutto Si apre tutto Eccolo qua Abbiamo già Ok, c'è un topino Meccanico Devo colpire il topino Allora E il topino Fa passare l'elettricità Che azione Ventilatore Che sposta Il cubo Ah, c'è un topino Ah, c'è un topino Ah, ecco l'ultimo Perfetto Ci siamo Stiamo arrivando Strega Preparativi terminati Preparativi terminati Finalmente È giunto il momento In cui il mondo Si prostrerà Ai miei piedi E vabbè Ci sta I jeans cuore però Che fanno Prima che andiamo avanti Ah, peccato Attivazione Voce di pitch Yo, yo, yo Gia, gia, gia Che è successo? Cos'è questo? Cosa? Abbiamo innescato Un processo imprevisto Meglio fuggire Alla svelta Ma l'andrini Sempre presenti Nei momenti peggiori Non ho tempo Di occuparmi di voi Questo è divertente Se avete queste intenzioni Sarà ben l'Italia Affrontarvi Posso spararvi In volo Fino a raggiungere i funghi Sì, vabbè però Non c'è bisogno Di essere così arrabbiati Che cosa sono questi? No, no Com'è lo so Ehi, no, no, no Ok Mi fanno male E mi hanno aggiunto gravità Non è un problema Io vado di morte alone Spemmiti Oddio, attacchi i fratelli Però non sarebbe male Se riesco a farli Quarantuno Wow È buono No, è fulmine Ok Entra Ho provato a saltare Ma ovviamente Sapete com'è, no A me non saltano i personaggi Agli altri sì A me no L'Italia Trattano i martellacci E 40 Per fare uno in più Dell'attacco di fratello Con Luigi Vabbè dai E questo mi sa che gli ci vogliono Gli attacchi fratelli È forte Certo Non sarà come Quando è a livello finale Però No, grande Si evolve il martello Il super salto espulsione Oh no Cielo Ok Achiappa la talpa quella giusta Riuscite a capire Quale è la me stessa reale Se non ti mischi bene Sì Si capisce Non è per dire Ma Eccola E Frullato gli schiaffi Anche Mario ora Sì Anche Mario Grande Come godo Eh Ora toccherà impararmi Pure questi però Super doppio martello Va bene Che Sei sorpresa che ti abbiamo scoperto Allora Andiamo un po' B A B A B A B Eh Ok Ci provo Ah Giochiamo a ping pong Quando siamo da soli Certo E l'ultimo Ragazzi Mi chiedo scusa Allora Ma Vabbè No 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 Non hanno saltato Quando glielo ho chiesto io Io Se potessi farvi sentire Il rumore dei tasti A volte si sente il rumore dei tasti Ma non stavolta Perché vedo che non c'è la linea A volte si sente il rumore A volte no Comunque Ricarichiamo anche Luigi Vai Super nocciole Ricarichiamoci al massimo E via Quindi lei Ride quando È quella vera Vabbè Accento che è messa Io non posso farci niente B A A B Questo pure Il nuovo Perché non è andato bene Accidenti Vabbè Io col tempismo Sono speciale Quindi lo sapete Ma tanto Li mastero Prima o poi Non è Che succede lì Ehi Preso di aver fatto bene Ah Devo andare un po' in anticipo Vabbè sì Ma perché quello Me l'ha fatto Con l'altra mano Vabbè Comunque Devo andare un po' in anticipo Lì Ho capito Quando fai il fulmine Ragazzi Dai però Salto normale Quindi attacca entrambi Lo stesso Lo stesso con il fulmine Va bene Mi ricarico Un po' di punti Fratello Perché sennò Non posso fare niente Ci vuole troppo tempo Dopo Vabbè sì Lei non sa Confondersi Troppo bene Quindi È un problema Suo Siete robbio tenaci Vero Però io non ho tempo Da perdere È ora di farla finita E se arrabbia Un'altra volta Niente Non va No Vabbè Lasciamo perdere Sta lotta è stranissima Proprio il tempismo O deve andarci Prima Devi essere in anticipo Contro di lei Tranne quando fa I buchi neri Quello proprio All'ultimo Deve andare Allora io Continuerei con il martello Visto che Penso che ci siamo Fra un po' No Qualche altro turno Ed è fatta E se vado con i biscotti Boo Non mi fa niente Non mi faccio male Per un turno Con due Infatti Non mi faccio niente Vabbè Attacca due volte Però E ovviamente Finisce l'effetto Proviamoci Dai Basta che mi fai fare Mi alleno un po' Con il tempismo Ma Sempre in ritardo Allora Se attacchi due volte Però è inutile Sti biscotti Boo Non servono a niente Fanno attacca sempre L'avversario Cioè io sto fermo Praticamente Per due turni Non subisci danni Per un po' Sì ma stai anche Fermo Quello non lo dice Contro effetto Daaa Che seccatura Sto buco nero Bene Bene ci siamo ricaricati Pronti Eh Ah Mario l'ha preso Penso di averlo saltato Si era udato il cielo Dai se tutto va bene Tu devi pistrello Ok Dico se tutto va bene Dobbiamo vederla solo Un'altra volta Endgame Così ce la togliamo Di mezzo No Com'è possibile Eh Hai perso Strega Strega Gignarda Calmati Guarda Questa macchina Può risucchiare La tua energia Non vedo come sia Di utilità Alcuna Soghigno Infliggigli Il colpo finale Disgustevolmente La carta Mamma mia Principe Ma cosa siete O cosa non siete Presto Al fagiolo stella Caduto Ora Eh Il fagiolo stella Si è scatenato Con la voce Della principessa Piccio Perché la voce Di Piccio Ha fatto scatenare Il fagiolo stella Sento che la soluzione Di questo mistero Sarà sorprendente Ne parleremo a fondo Quando il fagiolo stella Sarà stato recuperato Anche voi due Presto Andate al piano di sotto Se si tratta Semplicemente Di andare di sotto Facciamolo subito E concludiamo La vicenda All'Accademia Crepapelle Per non tornarci Mai più Immagino Tanto Ho fatto Tutto quello Che dovevo fare Credo Ah quindi Questi danno Un numero Preciso Di monete Vediamo Questi qui Non mi piacciono Tanto Questi che cambiano Lettera Così Boh Mi stanno Antipatici Sì Sì Vabbè Ovviamente Proliferano Come non ci fossero Domani No ragazzi Oddio Perché c'è L'acqua Qui Toccherà vedere Posso colpire I batteri Con l'acqua Sì Ma non Non ci fossero Niente Niente Devo Spruzzarla Qui No a quanto pare No È bloccato Sì Snifter Ti levi Ne ecco qua Un po' troppi per i miei gusti Devo ammetterlo Però come ho detto Non affronto niente Non ho voglia di perdere tempo Oh maledizione Virus Ok Super sciroppo Oh C'è un'altra boss fight Qui E contro chi Beh immagino perché Ci danno la salute E Il punto di salvataggio Quando danno due cose insieme È perché c'è una boss fight Ah ok Quindi Devo colpire i topini Ah Ok Il vare è giusto Sì però Mario Mettiti bene Ecco grazie Due E il terzo Che non si ferma Il terzo Ho capito Manca solo uno Ho sbagliato tutti i panti Gli altri Perché stavo messo Troppo basso Ok no Ok grande Uff Che sia la stella stessa Il nemico Ma no Ma come sti due E il capo Cos'è quella roba L'uccicante Che forma Che splendore Che aura Vedi Se non sbaglio E io non sbaglio mai Questo è il leggendario Fagiolo stella Quasi non riesco a credere Che sia piovuto dal cielo Improvvisamente Sono davvero colpito Comunque il fatto Che piovano tesoro È da considerarsi Un evento fortunato Ma anche questo È merito E prodigioso Ciampo Ciampo Sei grande Ehi Raga Recluta Ehi A meno che I miei occhi Non mi ingannino Guarda Non sono il rosso Di berne Dell'altra volta Sempre la stessa storia Non è divertente Recluta Ehi A questi due Piace ripetersi Allora affrontiamoli Di nuovo Ehi Ah lo spostano Ma che fregatura Ma potevamo Sgraffignarlo Sgraffignarlo Recuperarlo Perché mica Lo rubiamo Boh vabbè Che bisogna fare Ragazzi Bisogna affrontare Un'altra volta Devo allenarmi Con questo martellaccio Doppio Dai Ah Bene ho capito Ora Devo Certo Ci vuole il tempismo Però ho capito Come funziona Più o meno Io batterei Prima Ciampo Mi sta antipatico Boh vabbè A volte va A volte no Non capisco È più no Che sì Però Ancora Ma è bellissimo Questo attacco E niente Buster Questi martelli Sono un po' Pesanti A sopportare No Che fa Mi rub No Mi hai rubato Immagino Che mi abbia rubato Il super fungo No Era normale Vai Frurrato Gli schiaffi Ah 30 Ok Ciampo Ora si è arrabbiato Quindi Oltre metà vita Riproviamoci Niente da fare Tanto lo masterizzo Ragazzi Lo masterizzo È inutile Che Lo sbaglio Tanto prima o poi Lo imparo Ehi capo Questi due Alla fine Sono più forti Di me Non abbiamo Altra scelta Bisogna usare Quella tecnica Ah Bella Avete visto Quello è il nostro Stacco fratello Sì Non ci metterei La mano sul fuoco Ma Può essere Ma quindi Bowser Per tutto il gioco Ora sarà Con questo Ciampo Oddio Penso di poterlo Finire con Martello Ci siamo Ormai Oh No Come Oddio Ah no Un fungo Normale Ah Meno male Ma sbaglio O non ho subito Ancora nessun danno Beh Senza Damage È buona La lotta E ti pareva Ti pareva Che come lo dicevo Prendevo danno Eh Oh Un Eh Och Un 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 Ok, ok. E Bowser me lo faccio tutto quanto Con il martello Ci vorrà un po' quindi Direi di velocizzare il processo Sì voi lo vedete velocizzato Io devo starci però E Bowser ora sputa anche il fuoco Vabbè dai Ce se la fa Ce se la fa Fiamme E martelli Grande Mi pare più veloce Eh sì è più veloce L'ho notato infatti al turno prima Mi sembrava più veloce Non ho detto niente perché sai Poteva essere la mia impressione Invece no Yay Aia Oh, a conti fatti è stata veloce sta lotta Pensavo durasse di più Invece no È andata bene Emblema recluta A Prima anche i soggini Anche Ciampo mi ha lasciato una testa Però era la strega gignarda No La strega gignarda La tuta pipistrello Allora Mario dai punti in salute Uno Vabbè Penso che inizierò a dargli solo un attacco Anche se ha un punto extra è comunque buono Oddio no Attenzione il tesoro sta volando via Ma mi sono ricordato Io Io sono Il grande di Bowser Mario Mario Mamma mia! Beh, direi che questo conclude il nostro episodio, amici! Vi ringrazio per aver seguito questo video in descrizione, trovate come sempre tutti quanti i link utili! Nel prossimo video cercherò di capire dov'è che sono capitato su quest'isola, che cosa si fa o cosa non si fa, il registratore lo azioneremo nel prossimo episodio e ci vediamo al prossimo video, ciao! 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 Ciao!